Stiamo provando il nuovo ENJOY ONE COAT della IVAS il prodotto rivoluzionario da una sola mano Praticamente è finito Ti devo fare i complimenti per la maglietta È veramente eccezionale E io devo ringraziare a Samu Perfiore che ci pensa sempre Questa maglietta è eccezionale Guardate un attimo davanti Non ci posso credere, è eccezionale Bellissimo Cioè veramente hai finito il lavoro Quindi se in questo momento il tuo caso ti dovesse essere collegare a questa diretta live Dice complimenti Oggi mi hai fatto pagare un sacco di soldi Perché hai fatto tutto con una sola mano Grazie al nuovo prodotto ONE COAT della IVAS Enjoy Eccezionale veramente Grazie a tutti Grazie a tutti